Ci troviamo nella splendida cornice degli orti borromaici per annunciare la conferenza stampa della ventesima edizione del Festival Ultrapadum. Un festival che si è affermato con la sua formula di concerti sotto le stelle in giro per la provincia di Pavia e in alcuni tra i borghi più belli d'Italia. Un festival che ci accompagnerà come di consueto per tutta l'estate e che quest'anno celebra un importantissimo anniversario, la sua ventesima edizione. Siamo in compagnia dell'assessore alla cultura Gianmarco Centinaio. Assessore Ultrapadum alla ventesima edizione, importante appuntamento per Pavia e tutto il territorio pavese. Sì, è un evento importante, è un evento che permette alla città di Pavia ancora una volta di farsi conoscere i territori che sono al di fuori dei confini della nostra città. È un evento di cultura, è un evento di altissimo livello qualitativo perché ci sono dei grandissimi eventi. Ancora una volta il Comune di Pavia ringrazia gli organizzatori perché hanno scelto Pavia per promuovere questo festival. Quindi veramente grazie perché ancora una volta penso che i nostri concittadini avranno la possibilità di assistere a eventi di estrema qualità. Siamo insieme a D'Angiolina Sensale, direttore artistico e presidente della Società dell'Accademia di Voghera, per parlare della ventesima edizione del Festival Ultrapadum, una ventesima edizione ricca di appuntamenti. Sì, sono 32 appuntamenti che ripercorrono le tappe significative degli altri anni, soprattutto per i settori dei grandi eventi sinfonici e di questo concorso internazionale di Canto che si svolgerà qui a Pavia domenica prossima con la partecipazione straordinaria del soprano di fama mondiale Mariella De Via. Quindi sono appuntamenti che ci terranno compagnia per tutta l'estate dal 17 giugno fino ad ottobre dove ritorneremo a Pavia con un grandissimo evento al Teatro Fraschini. Si tratta del Requiem di Verdi eseguito da un ensemble tedesco di Monaco di Baviera di 180 elementi. Anche l'amministrazione provinciale ha aspettative in questa ventesima manifestazione dell'Ultrapadum. Ne parliamo con l'assessore Milena d'Imperio. L'aspetto culturale di questa iniziativa è particolarmente importante. Le aspettative sono alte anche perché quest'anno con la crisi che c'è io mi aspetto che molte persone si guardino più attorno nel nostro territorio e decidano di godersi ancora di più queste iniziative culturali che vengono messe a disposizione. Per cui mi aspetto una grande affluenza, mi aspetto che molti apprezzino ciò che magari non hanno notato esserci in passato e quindi in un momento di crisi questo è sicuramente un rilancio culturale nel nostro territorio. Insieme al senatore Mura parliamo della ventesima edizione del Festival Ultrapadum. Beh, ventesima, già questa ricorrenza è un anniversario importante. Vent'anni per una manifestazione culturale, fanno in modo che venga sicuramente inserita in quello che è un calendario nazionale, quindi una manifestazione di riferimento importante in quello che è tutte le attività culturali, ma qui non si tratta soltanto di un festival culturale, ma sono belli questi tre livelli. Da una parte il livello territoriale, quindi tutto un territorio, una provincia dall'Oltrepola all'Omellina al Pavese coinvolto, quello che sono vari generi musicali che fanno parte di quello che è un programma sicuramente molto diversificato e poi il tutto con questo filo conduttore dell'enogastronomia pavese che è ricca di prodotti tipici e quindi questi tre livelli che si intersecano, si sovrappongono e si muovono creando proprio una specie di caleidoscopio, credo che sia quella che è la formula vincente per una manifestazione come questa.